un 78enne di Montenero di Bisaccia muore a seguito di un malore improvviso sulla spiaggia di Vasto Fratelli d'Italia si spacca e non entra in giunta Roberti costretto a nominare unicamente il forzista Andrea Dilucente. Treni soppressi il pullman sostitutivo in partenza da Roma non basta per tutti a piedi un centinaio di pendolari molisani. Venafro votato l'assestamento di bilancio bianchi regolamento comunale disatteso la seduta è nulla. Scongiurare la chiusura dell'Afasev l'assessore Leda Ruggero sposta la proposta di Perna di un'assise monotematica. Ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale come avete sentito anche dai titoli Fratelli d'Italia si spacca e dunque non entra in giunta. Di fronte alle persistenti divisioni e contrapposizioni interne del partito della Meloni, Roberti si vede dunque costretto a nominare unicamente l'esponente di Forza Italia Andrea Dilucente che sarà anche suo vice. Ci racconta tutto il direttore Enzo Di Gaetano. Scelta sorpresa di Francesco Roberti che di fronte ai contrasti alla paralisi decisionale di Fratelli d'Italia, divisa al suo interno, ha scelto di nominare subito il terzo assessore e si tratta di Andrea Dilucente di Forza Italia che ricoprirà anche l'incarico di vicepresidente. Dilucente si occuperà di accesso al credito, politiche comunitarie e cooperazione internazionale, tutela dell'ambiente e politiche energetiche oltre che del personale. Sulle caselle ancora mancanti Roberti ha dichiarato che la giunta va avanti a tre assessori e senza sottosegretario fin quando Fratelli d'Italia non troverà un accordo comune per la nomina dei suoi due assessori. I nomi tra cui scegliere sono quelli di Michele Iorio, Salvatore Micone e Armandino De Giglio, anche se nelle ultime ore sarebbe spuntato fuori a sorpresa anche il nome di Filoteo Di Sandro come assessore esterno in qualità di coordinatore regionale del partito. Di Sandro, interpellato telefonicamente, ha dichiarato di trovarsi all'estero e di non sapere nulla di quello che sta accadendo in Molise. Ma è comunque un uomo di partito e se la Meloni glielo chiedesse a questo punto non potrebbe tirarsi indietro. Quindi la soluzione a sorpresa potrebbe essere quella di un assessore esterno anche per Fratelli d'Italia, come già accaduto per la Lega. Al momento tutti gli sviluppi sono possibili, anche se l'impressione finale è che se ne riparlerà solo dopo le ferie e dopo l'approvazione del bilancio, quindi nel breve periodo si andrà avanti con un'aggiunta a scartamento ridotto. Eusettatottene di Montenero di Bisaccia è morto purtroppo a seguito di un malore improvviso accusato mentre passeggiava sul bagnasciuga a Vasto. Il pensionato si trovava in acqua quando ha avuto un attacco cardiaco e si è accasciato in mare. Subito è scattato l'allarme con altri bagnanti che l'hanno portato a riva. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri, la polizia e la guardia costiera. Viste le condizioni gravi dell'uomo è stato allertato anche l'elisoccorso, tuttavia l'uomo è deceduto. Vani quindi i tentativi di rianimarlo. E ha dell'incredibile quanto accaduto ieri sera a Roma. Dopo la soppressione di alcuni treni a causa di lavori sulla tratta Roma-Campo Basso, il pullman sostitutivo in partenza da Roma non bastava per tutti. Così circa un centinaio di molisani sono rimasti a piedi. Il servizio di Antonio Leone. Treni soppressi per dei lavori sulla tratta ferroviaria che collega Roma al Molise, pullman sostitutivi che non bastano per tutti. E allora tanti molisani costretti a rimanere a piedi a Roma senza poter far ritorno in Molise. In questa calda estate molisana accade anche questo. Quasi un centinaio di molisani che ieri sera sono rimasti a piedi nella capitale. La tratta che collega Roma-Campo Basso, infatti, è interessata da alcuni lavori che si protrarranno, secondo quanto comunica Ferrovie dello Stato, almeno fino al prossimo 3 settembre. Con i treni soppressi è stato attivato il servizio sostitutivo, ma l'unico pullman messo a disposizione per i tanti pendolari per di più arrivato in piazza dei 500 con un'ora di ritardo, non bastava per tutti. Una volta occupati circa 50 sedili, gli altri utenti hanno scoperto che per loro non c'era posto. La situazione stava persino degenerando. Più di un passeggero rimasto a terra ha protestato in maniera vemente minacciando di voler bloccare la partenza del pullman. Una volta ristabilita la calma, i pendolari sono stati costretti a organizzarsi autonomamente. Un fatto gravissimo, hanno commentato su Facebook alcuni utenti, sottolineando che quanto accaduto ieri sera a Roma è solo l'ultimo episodio di una serie infinita di disservizi. Tra questi c'è anche l'assenza di aria condizionata sui vagoni dei treni regionali. Con il caldo delle ultime settimane, la situazione è diventata insostenibile, ha denunciato l'ADOC, associazione, in difesa dei consumatori. Notizie rassicuranti sulle condizioni della quindicenne caduta dal balcone giovedì scorso a Termoli. In queste ore dovrebbe essere dimessa dall'ospedale. La ragazzina di nazionalità eritrea era ospitata in una casa famiglia della cittadina adriatica per causa in corso d'accertamento da parte della Polizia di Stato e caduta nel vuoto procurandosi dei traumi alla schiena. L'assessore alle politiche sociali di Termoli, Silvana Cicciola, riferisce che un mediatore culturale farà da interprete con la ragazza così da capire cosa sia davvero successo due giorni fa. Scongiurare la chiusura dell'AFASEV, l'assessore alle politiche sociali Leda Ruggero sposa la proposta di Perna di un'assise monotematica. Ce ne parla Domenico Marzocchella. L'AFASEV è un centro socioassistenziale che a Isernia accoglie ragazzi con disabilità anche gravi. L'associazione, creata dalle famiglie, mira a fornire assistenza ai suoi ospiti sia diurna che notturna. Un obiettivo ambizioso che dal periodo della pandemia fa i conti con difficoltà crescenti. Da tre settimane il centro non eroga servizi, il rischio quello della definitiva chiusura. A portare la questione all'attenzione di Palazzo San Francesco il consigliere già assessore alle politiche sociali Pietro Paolo Di Perna. Voglio ricordare che la struttura dell'AFASEV si prendeva cura dei ragazzi disabili in condizioni di disabilità gravissima e ad oggi per diverse circostanze non sono più presenti nella struttura e che quindi di fatto ha dovuto interrompere l'erogazione dei servizi. Superare le barriere politiche e cercare di trovare la migliore soluzione e per la tipologia di servizi e soprattutto per continuare a far vivere una struttura che è perfetta, davvero perfetta per quel tipo di esigenze. A sposare la proposta di Di Perna di un consiglio straordinario ad hoc, l'attuale assessore alle politiche sociali, Leda Ruggero. Si sono verificate una serie di circostanze non dipendenti dal comune che hanno portato il direttivo dell'AFASEV a questa decisione ma io posso assicurare sia gli utenti, i genitori, i famigliari degli utenti con cui sono personalmente in contatto e sia il resto della cittadinanza che noi ci stiamo già muovendo. Ovviamente la decisione non è semplice, anzi giustamente sarà oggetto di un consiglio monotematico ma posso rassicurare tutti sul fatto che è una delle prime preoccupazioni di questa amministrazione e di questo assessorato. L'auspicio è che le istituzioni dal comune alla regione si attivino al più presto ai fini di scongiurare la chiusura di un presidio fondamentale per i disabili e le loro famiglie e nel complesso importante per l'intera comunità. Fiamme domate e fortunatamente nessun ferito a seguito dell'incendio divampato ieri mattina da un'auto in sosta sotto una tettoia agricola nei pressi di Carpinone. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Sernia che hanno scongiurato quindi danni ben peggiori, non si registrano feriti. Micronido di via Umbria no alla proroga di un mese, una delegazione dell'associazione che gestisce la struttura presente in consiglio comunale durante l'interrogazione presentata dal consigliere Fabrizio. Il sindaco ha spiegato i motivi del diniego. Carla Marino. Isernia è approdato in consiglio comunale il caso del micronido di via Umbria, oggetto di un'interrogazione urgente del consigliere di Forza Italia Raimondo Fabrizio. Presenta in aula una rappresentanza del personale e dei vertici dell'associazione Pima che gestisce il nido, che nel mese di giugno aveva chiesto all'amministrazione comunale una proroga di un mese alla chiusura della struttura, richiesta motivata dall'esigenza di assicurare la continuità educativa, come spiegato dalle esponenti della cooperativa sociale. Noi comunque svolgiamo questa attività ormai da anni con fondi regionali. Quest'anno c'è stato il problema che la Regione non è riuscita a finanziare questo nostro progetto per via delle risorse economiche. Per cui il Comune è vero che si è fatto carico un attimino di un impegno da gennaio a 31 luglio. Il 31 luglio è alle porte e sinceramente abbiamo a giugno inviato una lettera al Comune, ai vari responsabili, al Sindaco, chiedendo se era possibile avere una continuità. È vero che siamo venuti a conoscenza, ma nulla per iscritto, che molto probabilmente la struttura di via Umbria dovrà essere abbattuta, per cui dovrà nascere un nuovo micronido. E che nel frattempo pare si stia trovando un'altra soluzione. Però noi ad oggi chiediamo, o meglio, che dovrà essere espletata anche una gara. Perché, per carità, non è che vogliamo essere sempre solo noi a gestire. Giusto che, anche se c'è la legge della continuità, noi all'interno della struttura ospitiamo questi 16-20 bambini, il personale educativo altamente formato. chiedevamo una continuità, pur facendoci carico noi, in parte delle spese, ed i genitori hanno espresso la volontà di farsi carico, anche loro, di un di più della spesa. Quindi senza gravare sulle spese per quanto riguarda le entrate del Comune. Richiesta che, però, non è stata accolta dall'amministrazione ad illustrarne i motivi in risposta al Consigliere Fabrizio e il Sindaco Piero Castrataro. Ma io sono anche stupito perché questa questione l'ho spiegata abbastanza bene. Noi siamo stati la prima amministrazione che ha messo dei soldi propri per fare il servizio di asilo nido, mentre il famoso centrodestra che è stato riconfermato ha tagliato questi fondi che solitamente venivano trasferiti anche al Comune di Sernia. Noi, anche con le nostre indennità, siamo riusciti a fare il servizio di asilo nido quest'anno, tra l'altro per un importo maggiore di quello degli anni precedenti fino al 31 luglio e il 31 luglio c'è la scadenza, non potevamo assolutamente prorogare il servizio perché in questo caso si sarebbe trattato di servizio privato e quindi di vantaggi privati su immobili pubblici. Ripartirà il nuovo bando e questa volta sarà dal 1 settembre al 31 agosto, le risorse saranno maggiori, tra l'altro stiamo già scrivendo il regolamento per gli asili nido, le iscrizioni saranno gestite dal Comune e questo vorrà dire che aumenteremo come nessuno ha fatto mai prima i posti di asili nido all'interno del Comune di Sernia. Preciso il fatto che questa amministrazione con tre nuovi asili nido, tra cui la demolizione e ricostruzione di Via Umbria, il nuovo asilo nido a San Lazzaro e il micronido a Palazzo dei Baggis e l'amministrazione che nel Molise ha investito di più nella prima infanzia, lo faremo ancora di più nei prossimi anni, e nessuno veramente ci può insegnare quanto stiamo investendo nella prima infanzia. L'associazione in ogni caso ha deciso di organizzare una manifestazione per portare la cittadinanza a conoscenza della vicenda. Appuntamento fissato per lunedì 31 luglio alle 10 davanti alla sede di Via Umbria. E ora una notizia delle ultime ore. Un 25enne di Termoli che viveva e lavorava a Pescara ha compiuto un insano gesto proprio nel suo appartamento della città adriatica. Per lui non c'è stato nulla da fare. La notizia a Termoli si è diffusa rapidamente e ha provocato sgomento e incredulità nell'intera cittadinanza. Allarme nella serata di ieri sempre a Termoli nella zona di Pozzo Dolce dove c'è stato un incendio. Si sospetta di matrice dolosa poiché ignoti avrebbero dato fuoco a un chiosco bar chiuso da tempo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Via Cina. Delimitata la porzione interessata dal rogo, poi i pompieri sono dovuti entrare all'interno dei locali abbandonati per estinguere le fiamme. Consiglio comunale di Venafro, votato l'assessamento di bilancio. Bianchi, il regolamento comunale disatteso. La seduta è dunque nulla. Domenico Marzocchella. Venafro, Consiglio comunale. Una seduta di mezza estate accompagnata dall'inalzamento delle temperature ci sta dall'inalzamento dei toni in aula anche nell'ambito del confronto tra maggioranza e opposizione. Nel tardo pomeriggio di ieri a Palazzo Cimorelli ha approvato l'assessamento di bilancio. Le poste in passivo a cui il comune deve far fronte di ammontare complessivo di circa 30.000 euro. La maggior parte sono spese per un contenzioso legale risalente al 1995. 11 voti favorevoli, quelli della maggioranza compatta, altrettanto coeso nell'astensione il fronte della minoranza. Nel suo intervento, ed ecco il riferimento iniziale ai toni, prima della non partecipazione al voto, il capogruppo di oggi Venafro, Enzo Bianchi, di concerto con la consigliera eletta nella stessa lista, Carmen Mancone, Regolamento Comunale alla mano, ha dichiarato di considerare nulla la seduta. Ai nostri microfoni, Bianchi ne ribadisce i motivi. Il regolamento fa riferimento a sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione. Ergo, perché lo fai in straordinaria? Dove sta questa straordinarietà? Perché non ci hai dato ai capigruppo i documenti che dovevi dare? Questo è un consiglio, a mio avviso, nullo. E quindi un'approvazione del bilancio significerebbe bilancio nullo. Stasera si discute del riassestamento, del riequilibrio, del documento unico di programmazione da rivedere e quindi della riapprovazione di un bilancio di previsione 2023-2025 che è stato modificato. Ergo, di che parliamo? Non stiamo approvando il bilancio, il passaggio è espletato nella precedente seduta e non stiamo discutendo del bilancio di previsione, la replica del presidente del Consiglio, Dario Ottaviano. Ma tra gli argomenti all'ordine del giorno, inserito in seconda battuta, anche quello che tiene banco in questi giorni in città riguarda il futuro del convento di San Nicandro. Il Consiglio ha pochi margini di intervento, ma seguiamo la vicenda con grande attenzione le parole del sindaco Ricci. Che cosa può fare il Consiglio Comunale? Ma il Consiglio Comunale, purtroppo, il Comune in genere, purtroppo non ha certamente competenza o giurisdizione sugli ordini religiosi, sulle autorità ecclesiastiche. È chiaro che una diversa organizzazione, come è stata quella prospettata del convento di San Nicandro, che non è stata individuata per ora almeno come chiusura, così ci è stato spiegato, poi vogliamo vedere la prova pratica, ma anche soltanto una diversa organizzazione crea allarme a Venafro perché sappiamo quanta devozione, quanto trasporto c'è verso tutto ciò che riguarda i Santi Martiri e quindi in particolare verso quei luoghi sacri. Quello che ci comunque tranquillizza è che da più parti nell'ambito ecclesiale è stato spiegato, non solo come provincia Cappuccina, ma anche come Curia, come parroci anche di Venafro, che una soluzione alla fine si riuscirà a trovare. Noi siamo fiduciosi, ma siamo soprattutto impegnati perché queste soluzioni arrivino in tempi concreti. Ed è finita sul quotidiano nazionale Repubblica la vicenda che vede coinvolto il comune di Sessano del Molise. L'articolo si occupa della cittadina del centro in provincia di Isenia che ha presentato ricorso al TAR contro l'amministrazione per l'assenza di Quoterosa all'interno dell'Aggiunta. Non si è fatta attendere la replica del sindaco Pino Venditti, critiche strumentali, ha dichiarato il primo cittadino. Tra le ricorrenti c'è anche una candidata nella lista concorrente alla nostra e non eletta nell'ultima tornata elettorale. In realtà, come è possibile appurare dagli atti, le scorse settimane ho effettuato una regolare istruttoria, sia verbale che scritta, per accertare l'indisponibilità a ricoprire l'incarico sia dell'unica consigliera comunale eletta in maggioranza che di altre cittadine. D'altro canto, il rispetto delle Quoterosa scatta per comuni al di sopra dei 30.000 abitanti. Mi chiedo, ha concluso il sindaco, se le stesse ricorrenti si interesseranno anche dell'assenza di donne nella maggior parte delle giunte dei comuni molisani. In consiglio comunale a Campobasso, votata la mozione contro la proposta a Calderoli sull'autonomia differenziata. Dietro il termine autonomia differenziata, si nasconde il serio rischio di portare verso la disgregazione la Repubblica e accentuare gli squilibri tra Nord e Sud. Francesco Adamo. Il Consiglio di Palazzo San Giorgio ha approvato la mozione che mira a sospendere ogni decisione in merito a forme di autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario. base del contendere l'articolo 5 della Costituzione, messo in discussione della bozza di disegno di legge Calderoli, che dietro il termine autonomia differenziata, nasconde il serio rischio di portare verso la disgregazione la Repubblica. L'Italia è già oggi un paese con grandi squilibri fra Nord e Sud. In quest'ottica l'Unione Europea ha varato il PNRR con il principio di intervenire sugli squilibri territoriali, consapevole che questi sono un limite allo sviluppo e non un vantaggio per le aree più ricche. L'autonomia differenziata va invece nella direzione opposta, accentuando le differenze ed impedendo al Sud di accendere un secondo motore per lo sviluppo. Inoltre il disegno di legge pone di fatto il Parlamento in una posizione di secondo piano rispetto a quello regionale, accentrando la discussione fra il Governo e i Presidenti delle singole regioni. Inoltre l'autonomia differenziata, strutturata sulla spesa storica, comporterebbe un ulteriore grave aumento delle diseguaglianze territoriali del Paese. A tutto vantaggio sono delle aree più ricche, determinando peraltro un'evidente violazione degli impegni alla base del PNRR. Riduzione delle attività di emodinamica e sospensione dei ricoveri ordinari all'ospedale Santimotio di Terboli. Lo si apprende dalla comunicazione del primario di cardiologia Bruno Castaldi, indirizzata al direttore sanitario dell'ospedale Santimotio. Ancora problemi legati alla mancanza di personale e alla turnazione per le ferie in cardiologia. A seguito della persistente carenza di personale medico e delle necessità di dover concedere riposi compensativi e necessari periodi di ferie, si legge appunto nel documento, in assenza di soluzioni praticabili da lunedì 31 luglio il servizio di emodinamica sarà attivo solo dalle ore 14 alle ore 8. Per la presenza di un solo medico in servizio si procederà anche al blocco dei ricoveri ordinari e verranno assicurati solo i ricoveri urgenti e non procrastinabili. Longano diventa un gioiello nelle mani dell'orafo abruzzese Franco Cocco Palmeri. Sabato 5 agosto la presentazione alle 18.30 appunto nel piccolo borgo in provincia di Isernia. Cocco Palmeri mostrerà la comunità longanese il monile nato come gesto d'amore al borgo illustrandone i motivi della creazione. Il servizio di Fabrizio Fusco. Genius Loci, filosofia dell'orafo abruzzese Franco Cocco Palmeri. La sua vena creativa stavolta ha trovato ispirazione a Longano grazie ai reportage promozionali di Amolive News che gli hanno suscitato la curiosità e il desiderio di visitare il borgo matesino. E così per la terza volta l'artigiano di Roccaraso torna in Molise, terra che gli piace tanto ed in cui ha sviluppato progetti importanti nel corso della sua attività professionale e che vede come uno scrigno di meraviglie della natura e di rapporti umani speciali basati sui valori autentici dell'esistenza. Dopo Castel del Giudice, Sant'Angelo del Pesco e Rocca Mandolfi l'artista è rimasto folgorato dalla bellezza di Longano e dalla maschera di ferro di circa 2.600 anni fa, ritrovata e tuttora custodita a Campobasso nella sede della sorintendenza ai beni archeologici. Cocco Palmeri a febbraio scorso ha visitato in lungo e largo il centro storico ed il territorio circostante, guidato dalle volontarie dell'Associazione Il Costume dell'Anima. Sballordito dall'accoglienza e dalle campane in festa fatte suonare dal parroco apposta per lui. Girando per le stradine del paese ha scoperto scorci incantevoli e incontrato donne e bambine vestite con gli antichi costumi. Una sorpresa architettata dalla Presidente dell'Associazione Antonella Gatta. Dopo l'intensa giornata e il pieno di emozioni, Cocco Palmeri è tornato a Roccaraso con la determinazione di lasciare una testimonianza del suo passaggio. Le narrazioni di storie antiche e delle usanze ancora in uso, come la rascia e di tante altre tradizioni, hanno scaldato la sua anima sensibile. Sabato 5 agosto alle ore 18, Cocco Palmeri sarà a Longano per presentare alla comunità matesina cosa è nato nel suo piccolo laboratorio di Via Roma. Attesissimo quest'evento, che siamo certi, riuscirà ancora una volta a stupere la platea e non solo quella femminile. L'8-0 via libera alla sottoscrizione del protocollo di legalità tra il prefetto di Sermia Franca Tancredi e ANAS per i lavori di realizzazione della strada di collegamento tra il bivio di pesche e il lotto 1 dell'Isernia Castel di Sangro. L'accordo, che si inserisce nell'ambito delle iniziative promosse dalla Prefettura di Sermia, a volte alla tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici, sarà sottoscritto giovedì 3 agosto alle ore 12, alla presenza dei vertici locali delle forze dell'ordine, delle istituzioni, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali coinvolte e dell'appaltatore, la Vianini Lavori S.p.A. di Roma. E ora andiamo a Castel Bottaccio, quarta edizione del concorso letterario Come io vedo il mondo, organizzato dal circolo neo-illuminista Donna Olimpia Frangipane. Vincitrice del concorso, la capopassana Elisabetta Scarano, con il racconto La prima sigaretta. Francesco Adabo. Il circolo neo-illuminista Donna Olimpia Frangipane ha organizzato la quarta edizione del concorso letterario Come io vedo il mondo, tempi di solitudine. Il concorso letterario nasce per ricordare e portare avanti l'opera intellettuale di Donna Olimpia Frangipane, che seppe creare nella sua dimora estiva di Castel Bottaccio un salotto culturale, in cui si discuteva di arte, musica, cultura ed anche di politica. Non dimentichiamo il fermento che agitava quei tempi che sfociarono poi nella rivoluzione francese. Conosciamo innanzitutto il circolo. È dal 2005 che nasce la nostra associazione, quindi quest'anno ricorre il diciottesimo compleanno, praticamente, anniversario di fondazione del circolo e dal 2008 che celebriamo la figura di Donna Olimpia Frangipane con un concorso letterario che ci ha dato veramente grande soddisfazione e un grande successo. Al 2013 che ha affiancata la giuria tecnica, lavora anche la giuria popolare che chiaramente dà più un giudizio di impatto emotivo sull'opera che è piuttosto tecnico dell'opera stessa. Il concorso in questi anni si è evoluto ed è cresciuto. Quei premi che resiste negli anni e che ha saputo anche cambiare, trasformarsi perché era partito come un premio esclusivamente al femminile e poi ci si è resi conto che era invece bene rendere plurali le voci e quindi ascoltare anche la voce maschile. Questo è stato anche un elemento che ha vivacizzato oltremodo e ha fatto crescere questo premio e la qualità di questo premio. Nel nome di Donna Olimpia Frangipane, che è bene sempre ricordare, è una figura luminosissima che testimonia anche il ruolo determinante che questo piccolo contadolo di Molise ha avuto nella storia e nel suo nome noi continuiamo a parlare di temi di coggiante attualità. Primo premio della giuria tecnica al racconto, la prima sigaretta di Elisabetta Scarano. Il mio racconto è la prima sigaretta e si è ispirato alle figure di tutti gli anziani che abbiamo nei nostri comuni, nei nostri paesi. Abbiamo dei grandi anziani in Molise ma che vivono molto spesso isolati, in posti isolati, anche se non sono soli tecnicamente, però praticamente sono soli. La prima sigaretta è un racconto che parla di una signora che invece, alle soglie dei 90 anni, con la sua badante accompagnatrice, che è una persona che aveva conosciuto da piccola, si trova in una casa di riposo ma invece riesce a riprendere gli ultimi sprazzi di vita in mano. Impara a usare il telefono, incomincia a riavere relazioni sociali e alla fine dice, sa, mio padre diceva sempre che la vita è una facciata alla finestra, il tempo di fumare una sigaretta ed è già tempo di chiudere le persiane. Ricordiamo il secondo premio della giuria tecnica e premio unico della giuria popolare a Pasquale Giacquinta di Roma con il racconto La coltivazione di limoni. E ora le previsioni del tempo. Il meteo è offerto da Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino. Benvenuti al meteo di TV Molise. Per la giornata di oggi, sabato 29 luglio, si prevede cielo sereno su tutta la regione con un aumento delle temperature specie nei valori massimi. Venti dei Quadranti Sud-Occidentali, mare calmo. Temperature Campobasso minima 16, massima 31, Esernia minima 17, massima 32, Termoli minima 24, massima 32, Venafro minima 18, massima 34. Previsioni per domani, domenica 30 luglio. Per la giornata di domani si prevede un ulteriore aumento termico con temperature prossime ai 40 gradi nel Venafrano. Contenute invece saranno le temperature minime che risentiranno minormente di tale incremento. Venti dei Quadranti Sud-Occidentali, mare calmo. Temperature Campobasso minima 18, massima 34, Isernia minima 18, massima 34, Termoli minima 25, massima 34, Venafro minima 19, massima 37. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Grazie a tutti.